A spasso col sindaco non è il remake del film degli anni 90 con Morgan Freeman a spasso con Desi ma una vera e propria passeggiata esplorativa con il sindaco di Fano Massimo Seri per il progetto Orizzonte Fano assieme ad amministratori e professionisti in alcuni punti strategici della città per condividere le proprie idee e condividere anche i progetti che riguardano i prossimi interventi sul centro storico In questa tour lo dedichiamo al centro storico quindi con l'obiettivo di guardare, di valorizzare partendo da un presupposto che abbiamo un centro storico molto bello che è un valore aggiunto per la città che può dare molto noi ovviamente abbiamo già un piano, una strategia nostra ma vogliamo condividerla e vogliamo arricchirla facendo un percorso itinerario su quelli che sono i contenitori che devono essere rivalorizzati su quelle che possono essere risorse per il futuro Appuntamento quindi per venerdì 30 giugno alle ore 16 si parte dal Pincio, poi i giardini di Piazza Miani, il Sant'Arcangelo, la Rocca Malatestiana, la Corte e la Biblioteca Federiciana dalle 19 poi tutti quanti al Bastione Sangallo per la discussione finale su riqualificazione e riuso di immobili e spazi pubblici con tutti gli intervenuti alla passeggiata Grazie a tutti